State un po' di tempo a vivere in penitenza del vostro peccato, cioè a meditare sulle cause, sulle occasioni da evitare, sui mezzi da usare per uscire dal peccato, che sono sempre la preghiera e la penitenza. Vi ricordo che noi non siamo un partito anti-bergogliano. Ho sbagliato predica, era quella di Verona. Ribadisco fino alla noia, non mi illudetevi di potervi confessare tutti in questi incontri, raramente ci riusciamo, oggi poi sarà un disastro.